Io rappresento i ragazzi come me di 30 anni, che hanno bisogno del futuro, hanno bisogno di lavorare, hanno bisogno di creare una famiglia e io non sono solo la proprietaria di una scuola di danza, sono una ragazza e non siamo solo comparti, non siamo solo ristoratori o wedding o danza o palestra, siamo italiani, siamo italiani. Emiliano che spende 17 milioni di euro per la fiera e si dimentica che fare i paghi, le mie bambine di credenza ci sarebbero arrivate a 4 anni, tremone! C'è tanta esasperazione, ci sono anche coloro che hanno appena aperto una partita IVA, rendetevi conto! Grazie!